Dottor Viscardi, la sua azienda rappresenta un modello di produzione molto innovativo. Quali sono potenzialità e criticità rispetto alla domanda interna ed estera nell'attuale fase di rallentamento della crescita italiana? Sicuramente bisogna sapere stare al passo con i tempi, come si dice, perché le richieste del mercato sono completamente diverse rispetto a qualche anno fa. Il cliente vuole sempre cose più customizzate. Noi facciamo macchine speciali, una diversa dall'altra, quindi dobbiamo seguire quello che chiede il cliente. E quindi bisogna rimettersi in discussione tutti i giorni, usare tutte le tecnologie che sono a disposizione proprio per soddisfare i clienti. Perché se no rimaniamo tagliati fuori, oltre ai problemi di paese, ma anche noi dobbiamo correre dietro a cosa cerchi il mercato a livello mondiale. Grazie a tutti.